Ciao a tutti ragazzi e ragazzi, oggi faremo la pop-it sfida in palio avremo questa scatoletta piena di pop-it, non vi farò vedere con il pop-it cagnolino pulcino, anche se sembra un pinguino il granchio, un po' grande, aspettate, ecco il polipetto l'arcobaleno e il ghiaggiano e dove sono i pop-it più grandi? il cuore no, non li mettiamo quelli, non li usiamo, ok? non li usiamo da vedere l'alice? si, dopo li portiamo come dopo? ma scusa andiamo domani e va bene, tagli e poi li scambieremo con la pop-it challenge quindi iniziamo subito a giocare allora, che ti intiro io? perché? 3 ah, e questo è lo speciale 10 iscritti anche se siamo adesso a 14 iscritti però vabbè e vabbè e comunque stiamo con mio fratello 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avevo fatto 10 iscritti 4, 3, 7, 8, 9, 10 e spero vi piacciono gli shirt che sto pubblicando perché ho trovato ho scoperto che ci sono degli shirt che c'è la funzione shirt su youtube e praticamente sta facendo molti short su scoli pop it spero vi piacciono dai mi è superato facciamo soltanto una sfida con questi e poi facciamo questi sì e poi mettiamo in palio adesso mettiamo in palio questo e il polipo così poi ne avanzano tre e quindi dobbiamo fare due dobbiamo fare la sfida chi vince questa vince chi perde vince questi chi vince prende quelli dentro la scatoletta e poi facciamo la scusa con me una cosa non c'è tirato hai tirato fatto due te hai detto due con la maledizione hai detto due se volete altri video così potete scrivete nei commenti dato su già cosa prenderò quelli altri tipo degli scambi di pop it mi scrivo beh perché hai schiacciato questo è perché dovevo schiacciarlo che bello perso ho straverso 6 1 2 3 4 5 6 6 6 6 tu lo sei hai vinto hai vinto hai vinto hai vinto hai vinto hai vinto 4 5 4 5 5 grazie a cielo e cosa potete Ok ho vinto. Io lo sapevo che perdevo, lo sapevo. Questiamo questi. Wow c'è questo dado, questo robot, minuscolo. Questiamo questi. Wow questo può fare le robe di minuscole. Apriamo, prendiamo il granchietto, l'arcobaleno e il ghiacciador. Dai che pizzo, hai preso il mio granchietto, non vale. Vabbè e tu hai preso il mio polico, pronto? Ti do un ghiacciador. No dai. Così ne ho di più io, però hai perso uno che voleva tanto. Ah devo puntare io giusto qui. Punto questo. Ma non hai messo niente. Devi mettere qualcosa. Devi puntare. Ok metto questo. Questo. Guarda che rifiuto. Ma perché? Ma ti stai votando due fasi grandi. Allora metto questi due. Metto... Ah devi puntare te vai. Mettiamo un granchetto. Ho i due pupitri. Se così li avrò per sempre. Dai devo puntare qualcosa? No lo devo puntare. Una cosa piccola. Forca paletta. Ok allora. Io adesso metto questo. Vediamo cosa lo dà Marco. Aspetta voglio vedere una cosa. Ok io ho puntato un cagnolino. Te cosa punti? Wow. Puntare un pinguino. Però voglio di più. Io metto questo. No. Voglio di più. Ora accetto. Come fai a rifiutare? Eh eh. Non ti darò mai il granchetto. Ah allora tieni tutta questa roba. Allora tieni tutta questa roba. Allora tieni tutta questa roba. Dai ora facciamo un'altra cosa. Sfida. Dammi tutti i pop it. E chi vince? Vincerà tutti i pop it. Giusto? E allora possiamo stare qua? Possiamo stare qua un uro. Ok. Rimetto i pop it nella scatola. E chi vince? E adesso chi perde vincerà questi. Abbiamo formato almeno 36 volte. Cioè chi perde vince questi. E chi vince vince questi. Che rimette la scatola? Ma dai. Cioè. La mia sfortuna è la mia fortuna. Che hai fatto? Eh. Mi do male che questi qua sono dei porta chiave. Che sono perlomeno al collo. Non è neanche. E' un altro pinguino. Questo così? Ok. E aspettate che rigiro tutto. Ma hai già girato? No. Aspetta. Ok. Abbiamo girato. Ora tira Marco perché ti va perso. Due. Perché due? Forse era meglio che ti rovi te. Sei? Sette. No. Avevi poppato questo. Questo. E sono due. Più uno tre. Più altri tre. Più uno. Questo non lo dovrei poppare. Ora io. Ok. Tira. Poi la bella di questa cosa è che praticamente dentro c'erano i dadi incorporati. Uno due tre. Cosa vuol dire? Che c'erano già dentro quando l'abbiamo comprato. Nel pacchetto c'erano dentro i dadi. Quindi se non avevate dei dadi ce li avevate dentro. C'è un vantaggio io. Marco in vantaggio. Eeeh. Un altro undici. Vincerà noi. Uno due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici. Perché sono scappato. Sono scappato da te. Sei. Sono scappato da te. Sofì. No. La fuga di Marco. Se voi sapete esiste anche il pop it questo sempre sfida. Però che è più cioè non è a forma di farfalla ma è a forma di rettangolo. Noi l'abbiamo trovato a forma di farfalla perché io volevo la farfalla gigante e l'abbiamo trovato così a pop it sfida e quindi toccate a Marco. E quindi l'ho preso. A fine video voglio fermare perché voglio dirvi una cosa a Sofì. Uno due tre quattro cinque sei sette otto. No ho sbagliato nove qua. Cinque otto. Uno due tre quattro cinque sei sette otto. Come l'ha vinto? Sei. Due quattro sei. Proprio preciso. Anche ieri. Ok allora ora io prendo questi e io prendo questi. Ma come si apre? Adesso te lo vedo. L'ho aperto da solo. Ehi. Aspetta. Prendi questo? E non so neanche come ho fatto. Babi. Ehm. Il ratto rosso è tuo? Sofì voglio dirti una cosa. Ok allora vediamo cosa mi punta. Anzi punto io perché ho iniziato. Punto questi due piccoli. Eh grazie. Un arcobaleno. Un arcobaleno. Accetto. Cazzo per la cosa. Ah no più popit. Ah vero è la stessa tecnica che ho fatto di prima. Vai. Devi puntare te. metto questo. Ehm. Metto questo. Voglio di più. Voglio di più. Anzi metto questo. No però voglio di più. Voglio uno in più. Ma dai come di più. Da. Ma. Voglio di più però. Di più. Allora. Eh ma scusa. Punto questo. Vabbè. Tocca a te. Basta che ti do uno scambio. Questo. E questo. E questo. E di più. E questo. Accetto. Sono stupida. Perché hai solo un popit. Di più. Non ti ho messo niente. Tieni. Guardami qui. Voglio di più per favore. Ma ho solo questo. Va bene il punto. Ma certo. A me hai due cose. Però piccolissimi. Eh sì. Punto questi. Punto. Punto di nuovo. Ma non posso più. Ah poca a te appuntarvi. Ma come. Orvi. Ok. Un interno. Un cagnolo rosa. Ok. 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 E solo questo. Ok. 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 Incambi. E' mio questo. E' mio! Ho vinto io quindi è mio. Dai basta scambi. Comunque questa è la mia unica popita. Fagli vedermi tutto. Hai coperto da fare? Ho coperto tutto. Comunque questo video finisce qui. Noi vi salutiamo e faremo anche. Iscrivetevi qui sotto nei commenti se mi è piaciuto anche questo. Come si chiama? Questo speciale dei 10 iscritti. E consigliatemi anche cosa fare per lo speciale dei 20 iscritti. Ciao!